Genesi capitolo 4 dal versetto 1 al versetto 8 Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse Ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore Poi partorì ancora Abele, fratello di lui Abele fu pastore di pecore, Caino lavoratore della terra Avvenne dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore Abele offrì anche egli dei primogeniti del suo greggio e del loro grasso Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta Ma non guardò con favore Caino e la sua offerta E Caino ne fu molto irritato E il suo viso era abbattuto Il Signore disse a Caino Perché sei irritato? E perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene non rialzerai il volto? Ma se agisci male Il peccato sta spiandoti alla porta E i suoi desideri sono rivolti contro di te Ma tu dominalo Ci sarà capitato almeno una volta di aver ascoltato questa storia di Caino e Abele Come abbiamo letto, Abele era pastore di pecore Caino lavoratore della terra E succede qualcosa, vado subito al dunque perché il tempo è poco Abbiamo letto che il Signore guardò alla fine del verso 4 Con favore Abele e la sua offerta Ma non guardò con favore Caino e la sua offerta Mi è capitato Proprio di ascoltare personalmente Persone che hanno Avuto appunto un disappunto E hanno disapprovato questo modo di agire del Signore Perché dice come mai il Signore gradisce uno E poi dopo non gradisce l'altro Insomma ha creato dei dissapori Tra questi due fratelli Vedete fratelli Il Signore non agisce in modo Come pensiamo noi, con favoritismo Ma agisce in modo imparziale Egli conosce i cuori dei credenti Cioè tutto quello che noi vediamo Nell'esteriore di un credente Che può essere un pastore Può essere una sorella, un fratello Noi vediamo sempre alla superficie delle cose Ma Dio conosce i cuori La sorella Marina ha detto che Il Signore Gesù sta tornando C'è questo sentore nel cuore Beh io ho lo stesso sentore Che il Signore sta tornando E sta chiamando a sé Molte persone Sta tornando per rapire la sua chiesa Ma questo fratelli Mi è capitato anche su questo argomento Di parlare con qualcuno Dice che genera ansia Ma noi non ci dobbiamo adesso Preoccupare solo di quello Ma dobbiamo preoccuparci Ogni giorno di essere pronti Ogni giorno Fratelli e sorelle Noi ci dobbiamo ben preparare Non perdere tempo Nelle sciocchezze Lasciatemi parlare in questo modo Nelle disquisizioni Dottrinali Entrare troppo nel merito Io la penso così Tu la pensi così Concentrarci troppo su questo Anche se noi dobbiamo seguire La parola di Dio Questo è ovvio Ma poi ci sono delle cose Che riguardano la nostra mente Quello che ci è stato raccontato Come ci è stato raccontato Come ci è stato trasmesso Ma noi non vogliamo neanche seguire quello Noi vogliamo seguire Le indicazioni che ci vengono Dalla parola di Dio Questa è la nostra guida Come ha detto La sorella È una lampada al nostro piede La parola di Dio Ora il Signore conosce Il nostro servizio Conosce le nostre intenzioni E conosce i nostri sentimenti Al di là delle nostre apparenze Delle nostre parole E così conosceva Abele E Caino Li conosceva bene Perfettamente Ambe due E È una cosa importante Che io vorrei Proprio che noi notassimo È che il Signore Non è che dice Io non ho gradito Caino Ma dice al versetto Al versetto 4 Al versetto 5 Il Signore guardò Con favore Abele E la sua offerta Ma non guardò Con favore Caino E la sua offerta Quindi qui abbiamo Una prima indicazione Ancora prima Del nostro servizio Ancora prima Del predicare Da qua davanti Ancora prima Delle nostre parole E di tutto quello Che noi possiamo fare Il Signore guarda A noi Come ho detto poc'anzi Guarda al nostro cuore Attenzione Fratelli e sorelle È importante È importante Quello che facciamo È importante Servire il Signore Ma è ancora più importante Cercare di capire Come lo stiamo facendo Qualcuno mette molta enfasi E fa bene Ai culti Bisogna venire al culto Amen È vero fratelli e sorelle Ma è ancora più importante Il sentimento Che ci deve spingere A venire in chiesa Perché se io Vengo in chiesa Per abitudine O per far vedere Agli altri Quanto sono bravo O per far vedere Quanto sono fermo Poi vengo in chiesa E oltretutto Venendo in chiesa Non riesco neanche A mostrare amore Ai miei fratelli Mi spiegate Qual è il significato Di questa frase Se io non amo La fratellanza Tutta indistintamente Come fa il Signore Lo sai che il Signore Ci ama tutti indistintamente Allora qualcuno Forse oggi dirà No no Il Signore ama Solamente una parte Della chiesa L'altra parte L'ha accantonata Questa è un'eresia Ovviamente Lo sai che il Signore Ama ciascuno di noi In ugual misura Qui non c'è nessuno Più amato E meno amato Dal Signore Siamo tutti uguali Davanti a Lui Gli siamo costati Il sacrificio di Gesù Il suo figliolo Gloria al Signore E torniamo qui Qui al nostro testo Qui abbiamo una prima indicazione Dio non guardò Con favore Caino E di conseguenza Neanche la sua offerta Perché dentro Caino C'era C'erano dei sentimenti Non buoni Poi lo vediamo Più avanti Quello che è successo C'era un malessere Verso il suo fratello C'era Quello che Leggiamo Proverbi Capitolo 14 Versetto 30 Così ci rendiamo subito Conto di che cosa Stiamo parlando Proverbi Capitolo 14 Versetto 30 E dice così La parola di Dio Un cuore calmo È la vita del corpo Ma l'invidia È la carie Delle ossa L'invidia Questo malessere Questo malessere Questo malessere Fratelli Si avverte In tanti luoghi Io parlo sempre Del luogo dove sto io Nel luogo di lavoro A volte Nascono queste invidie Poi senza motivazione Perché qui nessuno Ha più dell'altro Questa cattiveria Gratuita Che a volte Viene proprio A volte Insomma Si percepisce Non parlo della chiesa Parlo degli ambienti Di lavoro Questa cattiveria Gratuita Ma da che cose Scaturisce Da che cosa scaturisce Spesso e volentieri Solamente perché Vedono una persona serena Una coppia serena Felice Che si ama E questo scaturisce E questo scatena l'inferno Scatena l'inferno È un malessere Fratelli e sorelle E Il vedere la felicità altrui Il vedere Una persona Che è contenta Che si accontenta Dello stato In cui si trova Può provocare Questo malessere E così Era Caino con Abele Aveva questa tensione Nel cuore E non lo faceva Stare neanche tranquillo Fratelli L'invidia È qualcosa Di terribile Di terrificante I capi sacerdoti I capi sacerdoti Consegnarono Gesù Appilato Per una questione Lo dice la parola di Dio Non è che lo dico io Di invidia Vedevano Gesù Che predicava Nella sua dolcezza Che predicava Nell'amore Ovviamente Lui era Dio In terra Non lo sopportavano più Basta Lo consegniamo Appilato Perché questo Non lo possiamo Più sentire Vedete che cosa Scatena Fratelli e sorelle E gli apostoli Lo stesso motivo Se leggiamo un attimino Atti capitolo 5 Versetti Da 16 a 18 Ve lo voglio leggere Per far comprendere Sempre meglio Questo Questo sentimento Se così possiamo chiamarlo Questo stato d'animo Dice La folla Correva Dalle città vicine A Gerusalemme Portando malati E persone tormentate Dagli spiriti immondi Sentite che belle frasi Che belle parole E tutti erano guariti L'arresto degli apostoli Il sommo sacerdote E tutti quelli Che erano con lui Cioè la setta Dei sadducei Si alzarono Pieni di invidia E misero le mani Sopra gli apostoli E li gettarono Nella prigione pubblica Cioè Cerchiamo di ragionare Un attimo Tutti erano guariti Il signore Stava benedicendo Stava compiendo Un'opera Questi religiosi Di quel tempo Invece di rallegrarsi Dice meno male Il signore sta operando Pieni di invidia Pieni di invidia Questi invidia Aveva addirittura Accecato gli occhi Cioè Non vedevano più L'opera di Dio Vedevano solo il male Ma non vedevano il male In loro stessi Attenzione Perché quando noi Abbiamo questo nel cuore Non riusciamo più a vedere Fratelli e sorelle È importante Infatti dove c'è invidia Dice Giacomo C'è contesa E c'è disordine E ogni cattivazione C'è Purtroppo è così Si alzarono Pieni di invidia Ci sono persone Credenti anche Purtroppo Credenti carnali Che si rallegrano Cioè Compatiscono Oppure Si immedesimano In coloro Che soffrono Ma non riescono A rallegrarsi In coloro Che si rallegrano Questo non è Amore di Dio Fratelli Noi ci dobbiamo Rallegrare Con quelli Che si rallegrano E piangere Con coloro Che piangono Non è che Quando vediamo Qualcuno Che sta male Poverino Poverino Poi quando Vediamo Un fratello Che viene Benedetta Scatta L'invidia No Questo succede Nel mondo Fratelli Non succede Nella chiesa Non succede Nei figli di Dio In coloro Che cercano La presenza Di Dio E qui dobbiamo Stare attenti Fratelli Primo Giovanni Capitolo 3 Versetto 2 Dice così Non come Caino Che era del maligno E uccise Il proprio fratello Perché l'uccise Perché le sue opere Erano malvagie Ecco che qui Entriamo proprio Nel nocciolo Della questione E quelle di suo fratello Erano giuste Le sue opere Erano malvagie Dice la parola di Dio Custodisci il tuo cuore Più di ogni altra cosa Perché da esso Provengono Le sorgenti Della vita Noi dobbiamo Pustodire il nostro cuore Fratelli e sorelle Guardarci dal maligno E qualcuno ha detto L'importante È servire il Signore No L'importante È il sentimento Che abbiamo nel cuore Noi non è che Col servizio A Dio Compensiamo i nostri peccati Eh Attenzione a non fare Come fa la chiesa Non voglio entrare Nella critica Però sono costretto Come fa la chiesa Tradizionale Cioè nel senso Io pecco Faccio quello che voglio Poi vado lì Qualche Ave Maria Qualche cosa Tutto a posto Torno a casa Cioè compenso Magari con delle offerte Compenso Eh Non voglio sparare Contro la chiesa tradizionale Non è nel mio Non è nella mia indole Tutti abbiamo dei difetti E in questo modo Noi compensiamo Dice vabbè Ho dato l'offerta Adesso posso pure sbagliare Nell'ambito evangelico Io servo il Signore Però mi comporto male Con i fratelli Vabbè Compenso Però l'importante È che servo il Signore No 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 Non funziona così Nelle vie del Signore A Bele Quando andò lì A presentare l'offerta E il Signore Dice Eh Caino Scusate Il Signore Non guardò Con favore Né lui Né l'offerta Guardate che Dio Guarda nel profondo Del cuore Non è la chiesa Non è il luogo Non è il posto Non sono gli evangelici Qui non si parla Di qui parliamo di me E te Davanti al Signore Cioè lui vede Ogni cosa Quando tu stai Per presentare La tua offerta a Dio E ti ricordi Che il tuo fratello Ha qualcosa contro di te Lascia lì La tua offerta Cioè il Signore Ci sta dicendo Aspetta un attimo Dice Non è che io Non voglio La tua offerta Lasciala qua Un attimo Vatti a riconciliare Col tuo fratello E poi torna E poi Io prenderò con gioia Questa tua offerta Vedete il Signore Quanto va a fondo Fratelli Quanto va Quanto è attento Ai miei Ai tuoi pensieri Ai tuoi desideri Ai nostri sentimenti È importante Fratelli Dice la parola Dice la parola di Dio Via da voi Lo leggo io Ogni amarezza Ogni cruccio E ira E clamore E parola offensiva Con ogni sorta Di cattiveria Siate invece Benevoli e misericordiosi Gli uni verso gli altri Perdonandovi a vicenda Come anche Dio Vi ha Perdonati In Cristo Gesù Il Signore Amava Caino Tant'è vero Che si avvicina E gli dice Senti Caino Ma perché Hai questo volto Abbattuto Perché hai questo Sei così Curvato In basso Ma se fai Del bene Ma non rialzerai Anche tu Il capo Il Signore Amava Caino Come Amava A bene Nella stessa misura Nella stessa misura Gloria al Signore Perché Se agisci bene Non rialzerai Il volto Quante persone Fratelli e sorelle Che mi capita Di vedere in giro Ma un po' la colpa Purtroppo è anche Del cellulare Che camminano curvi Sempre così Con la testa bassa Con la testa bassa Mesti Tristi Angosciati Il credente in Cristo Cammina con la testa alta Fratelli Perché ha lo sguardo Rivolto verso Il Signore È fermo Nei suoi sentimenti E quindi il Signore Conserva la pace In questi cuori Fratelli Sorelle Amici Teniamo lo sguardo In alto Come ha detto La sorella La mattina Preghiamo il Signore L'odiamolo Stiamo in comunione Con Lui Leggiamo la sua parola Dice tutte le cose buone Tutte le cose vere Insomma La conoscete Tutto Ce l'ha fatto imparare A memoria Il fratello Giacomo Sia un oggetto Dei vostri pensieri Liberate la mente Dalle cose negative Dai timori Dalle paure Glorifichiamo il Signore E il nostro Atteggiamento Cambierà Non staremo più Sempre con la testa bassa Sempre mesti Sempre tristi Sempre chiusi A parte se c'è qualche patologia Quello è un altro discorso Attenzione Separiamo i due discorsi Se c'è una malattia Lì Il problema è un altro Dobbiamo imparare A toglierci A depositare Questi pesi Queste amarezze Ai piedi del Signore Dice la parola di Dio E poi andremo in preghiera Deposto Ogni peso E il peccato Che così facilmente Ci avvolge Corriamo Corriamo Con perseveranza La gara che ci è proposta Ma come facciamo A correre nelle vie di Dio Se siamo continuamente Appesantiti Da tante cose Abbiamo lo sguardo Più che sul Signore Ce l'abbiamo sugli altri Dobbiamo fratelli Sorelle Amare il Signore Amare coloro che sono Intorno a noi Fissare lo sguardo Su Gesù E andare avanti Correre nelle vie del Signore Fratelli Sorelli Io voglio correre Non voglio rimanere Fermo Fisso Sempre sulle posizioni No 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 Sulle stesse idee Voglio che il mio cammino Sia sempre più Una corsa Verso il Signore Verso l'opera di Dio E questa è la strada Dice la parola di Dio In Giovanni Capitolo 10 Versetto 10 E poi andremo in preghiera Sentite che bello C'è qualcuno che vuole Atterrare Atterrarci In qualche modo Vuole curvare La nostra vita E' scritto che il ladro Non viene se non per rubare Ammazzare E distruggere Questa è l'opera Del diavolo Ma Gesù dice Un'altra cosa Io sono venuto Perché abbiano La vita E l'abbiano In abbondanza Io voglio abbondare Nell'opera di Dio Alcuno potrebbe dire Perché vuoi abbondare Ma mica per me stesso Perché so che Quando il Signore Abbonda La sua benedizione In me Io posso In qualche modo Questa benedizione E poi trabocca E cade anche Negli altri Questo è il desiderio Del nostro cuore Fratelli Ricerchiamo la benedizione Di Dio Vogliamo chiudere gli occhi E pregare Alleluia Gloria al Signore Gesù Gloria al Signore Gesù Via da voi Ogni amarezza Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti